ciao amici come va allora questa è l'ultima puntata della seconda stagione quindi la mia domanda è ma finalmente siete contenti che quest'anno sta per finire e quindi il discorso la puntata il titolo di questa superposizione è è la fine del mondo o non è la fine intanto voi guardate un pochino di relazione mi stendo sul divano guarda per il pazzo in in panda ora mi metto qui mi leggo il libro fa che fa un vento o cos'è questa cosa un freddo seribaltato la superposizione addirittura con l'elicottero oggi gallino gallino c'è la superposizione nel campo della quantistica una cosa può essere contemporaneamente vera e non vera ma nella realtà è meglio prendere una posizione riusciranno i nostri esperti a risolvere il quesito che la scienza gli pone con diletta oculisti massimiliano galligani superposizioni un esperimento super per serio di in quanto teatro ma è che l'ha piaciuto perché ti sei messo tutta sta citazione perché mi mancava tutta la stefasi comunque la sua posizione è la fine del mondo o secondo me è sempre una tragedia quindi è la fine del mondo qualunque cosa succeda è la fine del mondo per esempio dammi questo dammelo questo crolla è la fine del mondo perché si rompe questo si rompe la fine del mondo perché si è rotto capito è la fine del mondo Piove è la fine del mondo perché non ha l'ombrello prendi la macchina è la fine del mondo perché entri nel traffico ma che botta tu c'è ma scusami tanto non è la fine del mondo non è tutto non è tutto così buio e così poi anche nei momenti più bui di un essere umano di una persona comunque non è la fine del mondo come sei diventato serio guarda non è la fine del mondo voglio dire ora di esempio no siamo in un periodo storico abbastanza difficile ma non è la fine del mondo torneremo di nuovo a disorgere dalle scelari come fece la cosa come si chiamava la barbara d'orso si è la barbara d'orso la barbara d'orso uno va nella mitologia nel mito e la mi ci pianta la barbara d'orso lo capite che hai il peggio non c'è fine ma diavola che è alla fine del mondo il video ti volevo portare lo so che è la felice lo so che è la felice ignorante ha capito quindi ti ho portato alla fine del mondo sei d'accordo con questo non solo d'accordo perché comunque non è tutto non è tutto buio sempre così è la fine del mondo non è la fine del mondo questo qui tra l'altro tu me l'hai buttato addosso ma non sei riuscita a rompermelo perché il tuo intento l'era di creare la fine del mondo cioè di rompermelo invece no t'ho fregato questo qui ora riviaggia e mi porterà di nuove posizioni mi porterà nuove posizioni in questa asa bellissima ma cosa stai dicendo che non è la fine del mondo di nulla anche se questa è l'ultima puntata di quest'ultima stagione no vabbè ma manco di riose insieme sai vabbè comunque ci saranno altre puntate no di questa stagione perché sarà la fine del mondo? sì perché è finito questo finisce tutto ora ti dimmi cosa si fa se non arrivano più le super posizioni che ci è rimasto da fare? ci si guarda nelle palle degli altri per l'amor di dio perché? perché ci sono altri motivi di divertimento no? si troverà nuovi momenti di divertimento oltre a se non lo sai madonna non è la fine del mondo di niente torneranno nuove super posizioni tornerà tutto sempre meglio si tornerà a vivere e gioire anche nei momenti buio come ho detto prima come c'è stato ora con questo covid qui però non è la fine del mondo o che parli sempre delle solite cose allora di che tu vuoi ragionare? dell'omino di sopra e more schiantato in terra perché l'è cascato dalla seggiola? di che tu vuoi ragionare? ed è la fine del mondo per lui si ma per me non è una rinascita perché se Dio vuole gli smette di fare confusione a quella seggiola quindi? quindi? va bene è quindi? non è la fine del mondo è la fine del mondo? non è la fine del mondo ti ho detto che è la fine del mondo nuadonna... ti ho detto che non è la fine del mondo non è la fine del mondo basta! non ce la faccio più io in questa casa non ci sto più Va via! Comunque è la fine del mondo Ora riprendo a leggere Allora, cosa ne pensate? L'avete vista la punta? Secondo voi, allora, ditemi sinceramente e onestamente Allora, è o non è la fine del mondo? Perché quest'anno ci avrebbe veramente... Vabbè, comunque a parte di questo qui Se vi è piaciuta la puntata mi raccomando Condividetela con i vostri amici Mettetela sul diario di qualche vostro amico E mi raccomando l'iscrizione Iscrivetevi qui sotto e condividete altri video Anche perché per il prossimo anno inizieranno nuove rubriche Ci saranno nuove iniziative Abbiamo dei progetti molto molto interessanti Che sono lì, che bollono in pentola Quindi mi raccomando Seguiteci e divertitevi sempre a me Ok? Come sempre vi ringrazio e vi saluto Vullo sapere Con l'altro nome con il muso Ciao!